Dopo la visita lampo di ieri del presidente americano Biden, oggi a Tel Aviv è arrivato il primo ministro inglese Sunak per una missione di due giorni, volta a mostrare solidarietà al popolo israeliano, ma anche per portare avanti una descalation del conflitto tra Israele e Hamas. Sono orgoglioso di essere a qui al vostro fianco, nell'ora più buia di Israele, vogliamo la vostra vittoria, ha detto il premier britannico in una conferenza stampa con Netanyahu. Sunak incontrando il presidente Erzog ha sottolineato anche l'importanza della ripresa degli aiuti umanitari ai civili palestinesi a Gaza, aiuti che dovrebbero arrivare a breve in virtù dell'accordo tra Stati Uniti ed Egitto per la riapertura già domani del valico di Rafa. Intanto i blitz israeliani nella striscia di Gaza non si fermano e l'esercito annuncia di aver ucciso due importanti rappresentanti di Hamas, il leader dell'ufficio politico e il capo della sicurezza nazionale. Nel frattempo Israele continua a colpire postazioni e bollai in Libano in risposta ai missili lanciati in territorio israeliano. In Italia non ci sono segnali di rischio di attentati, però non possiamo abbassare la guardia, anzi occorre alzarla per prevenire tramite il lavoro della nostra intelligenza e delle forze dell'ordine. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani che sul ripristino dei controlli al confine con la Slovenia ha precisato che il trattato di Schengen sulla libera circolazione in Europa è stato sospeso solo temporaneamente al confine tra Italia e Slovenia per evitare che dalla rotta balcanica dove c'è un intenso traffico di armi arrivino terroristi che possono colpire nel nostro paese e nel resto d'Europa. Il premio Sakharov 2023 per la libertà di pensiero è stato assegnato a Massa Amini e al movimento di protesta delle donne vita e libertà. La presidente del Parlamento europeo Roberta Mezzola ha annunciato la decisione sulla più alta onorificenza dell'Eurocamera per i diritti civili in plenaria a Strasburgo. Massa Amini venne arrestata dalla polizia di Tehran perché indossava male il velo. Morì in ospedale tre giorni dopo a seguito di abusi fisici subiti durante la detenzione. La sua morte scatenò massicce proteste guidate dalle donne in Iran. Matteo Renzi ufficializza la separazione da Calenda. Si tratta di un epilogo annunciato ma oggi arriva la conferma definitiva. Ufficializziamo la separazione delle strade con gli amici di azione, dichiara Matteo Renzi, ponendo una pietra tombale sul progetto tormentatissimo del Terzo Polo. Meglio finire questa telenovela che farci ridere dietro da mezza Italia, dice l'ex premier, dopo la lunghissima sequenza di attacchi reciproci che ha caratterizzato sin dalle origini la difficile convivenza. Abbiamo provato fino all'ultimo a chiedere di fare la lista insieme, la risposta di Calenda è stata sprezzante. Sarà una giornata di sciopero generale domani, quella che coinvolgerà tutti i settori. Si rischia lo stop dei treni sulle linee nazionali e regionali, degli altri mezzi di trasporto pubblico locale, la chiusura delle scuole in tutto il paese e l'interruzione di altri servizi, compresi quelli della sanità. Lo sciopero riguarderà l'intera giornata e per i trasporti inizierà già da questa sera alle 21 fino alla stessa ora di domani. A Milano il sindaco Beppe Sala porta avanti la strategia per una città meno inquinata. Vogliamo chiudere al traffico privato il centro della città entro il primo semestre del 2024, ha detto il primo cittadino Meneghino, aggiungendo che l'obiettivo è iniziare col centro per poi allargarsi. Il cambiamento, ha aggiunto Sala, non è utopia, cambiare modello di sviluppo è possibile. Intanto a Roma è in arrivo una proroga sulla fascia verde. Dal primo novembre anche i diesel Euro 4 potranno continuare a circolare nella ZTL verde. Lo stop potrebbe slittare al 2024. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!